Corrado Sabatini, Presidente della Commissione di Studio sul dissesto idrogeologico, i risultati di questo sopralluogo a Palazzo Davado? Prima di parlare dei risultati voglio dire che oggi abbiamo fatto il sopralluogo con la presenza anche dell'opposizione, abbiamo sostituito i dimissionari, abbiamo messo Antonio Montedorizio per la minoranza e abbiamo effettuato questo sopralluogo come ci eravamo riproposti. E' stato molto positivo perché poi mi sono reso conto effettivamente della situazione del Palazzo ed è quello che avevo già detto attraverso un comunicato stampa che avevo fatto precedentemente, che queste lesioni non sono di tipo strutturale ma dipendono esclusivamente da una cattiva manutenzione, quindi niente di preoccupante, anzi è stato molto positivo questo sopralluogo e quindi sono soddisfatto. Sui tempi siete fiduciosi? Stiamo in fase di appalto, poi ci saranno i 35 giorni per effettuare il contratto e quindi si faranno i lavori ma stanno correndo, questo devo dire, quindi si stanno velocizzando di molto le procedure. Ingegnere Gioamichele a che punto siamo con le procedure? Ho sentito in questi giorni l'ufficio del Genio Civile, sono in contatto anche col geologo che sta seguendo i lavori, la fase della progettazione è ultimata, abbiamo il progetto esecutivo, cantierabile quindi. Dal Genio Civile assicurano che stanno procedendo con la procedura per l'affidamento all'impresa, quindi a breve avremo l'impresa esecutrice dei lavori, affidataria e quindi il tempo di eseguire i lavori speriamo entro l'estate. Guido Gian Giacomo, secondo Forza Italia la situazione qual è? Siamo passati dalle parole ai fatti finalmente, la situazione è una situazione che ci aspettavamo e quindi è una situazione che è monitorata, è sotto controllo, sono stati prese gli accorgimenti necessari, credo che a breve, in qualche maniera, sicuramente non per quest'estate, è inutile illudere nessuno, l'intera area dei giardini napoletani potrà essere restituita al pubblico. Abbiamo preso atto che non vi è nessun problema nell'immediato per il palazzo, che è la cosa più importante, visto che si avvicina la stagione estiva e il palazzo d'Auros è il fulcro di tante situazioni culturali e quindi questo bisogna rassicurare sia ai cittadini sia a tutte le persone interessate a usufruirne e continueremo come commissione a verificare che nel frattempo non si perda tempo e che si faccia tutto quello che c'è da fare. Abbiamo aggiunto anche un sopralluogo a Via Adriatica dove abbiamo preso atto che un intervento partirà brevissimo, di cui fino a ora non è stato detto niente. Nei giorni che verranno inviteremo la commissione a verificare anche altre situazioni al porto, lungo il costone di Via Santa Lucia, cioè dovunque è necessario prendere atto che ci sono delle cose da fare. Il nostro ruolo sarà da fare da pungolo e più che da controllo di stimolo. Quindi niente a Ventino, come invece ha fatto parte dell'opposizione? No, noi all'Aventino faremo l'apologo di Manenio Agrippa.